Il palco del teatro Petrarca di Arezzo Agatha Christie non ha scritto delle commedie su Miss Marple, ha scritto dei racconti e Edoardo Erba ha avuto il permesso, perché sono situazioni complicatissime con gli eredi della Christie, di adattare un romanzo a commedia teatrale. E per cui c'è questo debutto unico di questa Miss Marple, che è questa vecchietta, io non la faccio proprio vecchietta, la faccio della mia età per cui è abbastanza vecchietta, che non è una detective ma è una pettegola molto attenta che vive tutto in un suo mondo, che appunto proprio per queste sue caratteristiche e questa sua curiosità riesce a risolvere dei casi. Miss Marple, qui si tratta di omicidio, non è una questione di l'auditore, qui fra poco ci sarà la polizia. Appunto, mi domandavo cosa diranno di un particolare. Sentiamo. Sulla macchina da scrivere di Christian c'è del sangue, quindi è stato ucciso mentre stava scrivendo la lettera. Però non c'è il foglio. Lei cosa dice? Com'è difficile capire cosa bisogna fare qualche volta. Grazie. 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 Grazie.